Ma insomma, non è soltanto... c'è per esempio chi si è lamentato di Mazzoleni al VAR, ma lo vedremo, questo ce lo racconterà tutto dopo Federico Bertone e bisogna vedere se hanno ragione o no, perché poi ce lo dirà Federico se ce l'hanno Ultimo ma non ultimo, anche perché poi avremo un altro ospite ma ve lo presenteremo strada facendo Non ci siamo messi d'accordo ma siamo vestiti a quanto pare uguali Marcello Chirico, buonasera Voglio vedere se ha le scarpe rosse anche lui No, stiamo guardando il rossetto ma non ce l'ha No, le scarpe rosse? Beh, ci mancherebbe pure che mi metti l'ossetto Io sono in blu Ah, sei in blu, perché io da qua ti vedo in nero, vabbè, pazienza No, blu scuro, blu scuro Ma volevo dirvi che io sono stato l'unico che qua dentro aveva detto la Juventus non avrebbe perso questa partita Infatti la Juventus non l'ha persa questa partita, secondo me è il pareggio anche Grazie, vogliamo essere un doppio merito, non ha neanche detto che se l'avete vinta Era in trasmissione con me ieri pomeriggio, confermo, ha passato tutto il pomeriggio a dire stasera la Juve non perde E tutti ridevano Sì, però Marcello, a parte la tua veggenza, però da appassionato, da tifoso, da uno che segue la Juve da vicino Dovresti essere un po' indignato per quello che abbiamo visto Ma sei un po' indignazione, guarda Ma l'indignazione, ma io sono abituato Ma Paolo, cioè, Paolo, abbi pazienza Ma io, Allegri, lo conosco da talmente tanto tempo Che ormai questo mi aspetto, non è che mi aspetto di più L'importante è di Elber, come sono messa la Juve La Juventus non doveva perdere, è rimasta agganciata all'Inter Non l'ha fatta scappare, secondo posto Ma purtroppo, ma vabbè, cioè, tu fai dei paragoni che non puoi pagare No, ma dico Tu puoi fare il paragone della Premier con la Juve No, va bene, ma è ovvio Non puoi farlo Ma perché non esiste Ma quello è un paragone che stride come un pugno nello stomaco, ovviamente Quello è un eccesso Però io mi chiedo, con un tiro a partita, con un tiro in porta a partita Si può vincere una Z Per tutta la stagione Cioè, ho capito, ma non ti va sempre bene Dove pensi di poter arrivare? Ma non penso di poter arrivare da nessuna parte Non sto dicendo che vince lo Scudetto No, perché io, dopo averli visti ieri Dopo averli visti ieri dal campo Io ti dico che se avevo un mezzo dubbio Per me te lo scrivo adesso O poi vengo, ovviamente, spuntanato Spuntanato Però scusami La Juve non può vincere lo Scudetto giocando così Vabbè, però la classifica e i numeri dicono un'altra cosa Allora, noi ci dobbiamo fermare Io voglio far impazzire un po' la regia Quindi mi scusami Ma perché? Perché poi ce lo direi dopo A me ha detto un uccellino Sì Un uccellino mi ha detto Che Allegri se ne va a fine stagione Sì, ma questo è possibile Però Non resta in Italia E vuoi anche aggiungere E vorresti anche aggiungere Che probabilmente arriva Conte Però io ti anticipo una cosa che approfondiremo dopo Guarda che Conte C'è qualcuno dentro la Juve Che proprio Poi magari Che non lo vuole Non impazzisce Mi fate solo dire che Marcello aveva predetto Forse l'unico Nicolussi Caviglia titolare Quindi prima della pubblicità Così finiscono i compi Esattamente Non avrebbe spostato Allora, ne discutiamo subito dopo la pubblicità A tra poco Ben ritornati in studio Vi lancio il primo sondaggio della serata Così poi lasciamo lo spazio ai nostri ospiti E Beh, poi vorrei la risposta anche di Michele Visto che interessa l'Inter Occasione persa? Sì o no? Michele In parte sì Allora, questa partita si può vedere Sia come bicchiere mezzo vuoto Che bicchiere mezzo pieno Però poi alla fine evidentemente Se tutti e due Tutte e due le contendenti Hanno pensato di accontentarsi Un motivo c'è Allora io sono d'accordo però con Paolo In partenza sulla partita di ieri Perché soprattutto l'Inter Ma ti ha chiesto Ho fatto una domanda E mi ha risposto Per te sì o no? Tu e giri come al suo No, alla fine ho detto no Alla fine ho detto no Alla fine ho detto no Occasione persa no Sì, è vero Poi in parte ho detto Metà bicchiere mezzo pieno E dipende quale parte del bicchiere vuoi vedere Siccome è rimasta prima Siccome è rimasta prima E ha rischiato di essere scavalcata Soprattutto nel momento in cui ha preso gol Un po' di paura secondo me c'è stata Da parte di tutti Rivedendo film del passato Alla fine ti rispondo no Però voglio dire Allora noi siamo partiti Dalla partita di ieri Alla fine ti sei accontentato Alla fine ti sei accontentato No ma io volevo solo Per non mischiare le due Perché una cosa è la partita di ieri E sono d'accordo con voi Che è stata deludente Da non far vedere diciamo I bambini piccoli Per vedere come diciamo Bisogna affrontare proprio il calcio Il più bello spettacolo del mondo No Però secondo me poi siete andati oltre Iniziando a dire Che nel calcio conta lo spettacolo Che nel calcio conta Io qui sono un po' più allegriano Nel senso che nello sport Conta con le risorse che si hanno Raggiungere uno scopo Un risultato Quindi noi Pioli Che ha giocato a grande viso aperto Con l'Inter Perché ci credeva Nella proposta di gioco Ne ha preso i cinque L'abbiamo crocifisso Stiamo crocifiggendo Chi invece Però Spalletti cinque Non li prendeva col Napoli Divertiva e ha vinto Ho capito Allora lo Shakhtar Donetsk Quando ha giocato Castro Ci può essere un inciampo Sulla strada di una crescita Però alla lunga Alla lunga valorizzi i giocatori T'ho sicuro Però nello sport Devi raggiungere un obiettivo Se in quel momento La Juve nel secondo tempo Non ne aveva più Per fare il pressing Che nel primo tempo Ci ha provato a fare Secondo me Cioè ci sta Poi quando voi parlate Della metafora Cinematografica I Marlon Brando I biglietti Chi va a pagare il biglietto Quello non dipende Dagli allenatori Che devono fare Con quello che hanno E devono poi Sono giudicati dal risultato Non dall'estetica Perché io per vedere I migliori I migliori Devo dargli i soldi Ma non con quello che hanno No Maurizio Non con quello che hanno Perché l'hai detto anche tu prima Non so se eravamo in fascia Frosinone Empoli Cioè abbiamo visto Con tassi tecnici Comunque inferiori Una proposta di calcio Più decente Sì però dopo Quando arriva il Morgiorno In cui tu ti giochi Una partita importantissima Per il futuro di tante cose Conte il risultato Insomma Ugo Il fine giustifica Ma che risultato è stato Sempre? No secondo me Che risultato è stato? Niente è stato? Niente E per la Juve Rimanere comunque in corsa Ma la Juve E poi è rimasta a seconda Niente è stato Scusa Rimane a seconda Voleva perdere Però Nella testa Nella testa acquisisce Il montaggio Non può giocare No perché se volete fare L'Inter L'Inter Scusami Scusami Ma se vuoi fare Il risultatista No se no Parli sempre solo tu No scusami Scusami Allora Cioè tu hai detto Una cosa giusta No dicendo L'Inter ha una proposta Di gioco Siamo d'accordo Anche i giocatori più forti Il problema è che Ieri l'Inter Che avrebbe potuto Spingere sull'acceleratore E dire Beh a questo punto Io me la vado a vincere La partita Non l'ha fatto Ha rinunciato Ma infatti Io ho criticato Tutte e due le squadre Io ho criticato Quindi alla fine Alla fine la Juventus Si è presa Si è preso Alla fine vuoi vedere Che chi se ne ha più avuto È Gianluca Però Scusa Con il Napoli Lascia Gianluca Però Anche facendo un discorso Da risultatista Come Michele Cioè alla fine Non è stato un risultato utile Per nessuna delle due Perché se vogliamo fare I farmacisti Hanno perso punti Il Milan è salito Il Napoli è salito Paolo Paolo ti faccio un esempio L'anno scorso L'Inter di Inzaghi L'anno scorso Ha perso 12 partite Paolo L'anno scorso L'Inter di Inzaghi Ha perso 12 partite E nessuno si ricorda Che di queste 12 partite Ha fatto 7000 palle gol Ha sbagliato gol Sulla linea Perché si dice Hai perso 12 partite Quest'anno Abbiamo detto Tante volte Che l'Inter di Inzaghi È molto più attenta Calibrata sull'obiettivo Perché sceglie i momenti Della partita L'ha fatto a Salerno L'ha fatto a Torino L'ha fatto il primo tempo Col Benfica L'ha fatto il primo tempo Di ieri Nel secondo ieri Sì Di solito l'Inter Accelera Ma come dice Marcello Ha avuto anche un po' di timore È avuto un po' di timore È stata lì Gianluca Tu hai sentito Quello che ha detto Il nostro Possiamo definirlo così Visto che Ha una rubrica fissa In casa Biscardi Il venerdì Il nostro Fabrizio Boccar Guto come al solito Come no Ma secondo te Per esempio Il Napoli Sta diventando Cioè con Mazzarri Sarà più risultatista Sarà più tendente A far rivedere Il Napoli di Spalletti Cioè che Che sensazioni Ti ha dato Riguardo lo scudetto Naturalmente Cioè la lotta Al vertice In questo momento Con Inter e Juve Bisogna stare un po' calmi Maurizio Innanzitutto Troppo il distacco Che il Napoli Aveva dieci punti Con l'Inter In dodici giornate Adesso ridotto a otto Io credo che Per il trauma Che ha dovuto subire Il Napoli In questa gestione Di Garzia Il primo passo È quello di tornare Alla normalità Ed era quello Che ha chiesto Mazzarri Non puoi chiedere A Mazzarri Anche in In prospettiva Breme e medio termine Considerando il calendario Ci sono Inter e Juventus C'è una sorta di triangolare In queste tre settimane Inter-Juve Napoli-Inter E poi Napoli-Juve Di cercare di ridurre Al minimo i danni Per non perdere completamente Il distacco dalla vetta Allungare dal quinto posto Per star sicuri E questo ci è riuscito Perché la Roma È a 21 punti Più 3 ovviamente Scontro diretto con l'Atalanta E ritorno alla normalità Io alla questione Scudetto In questo momento Cioè penso prima Alla ripresa del Napoli Però due grandi risultati Con Inter e Juve Insomma eh Lì si lancerebbe Ti rimetti lì eh Eh ne parliamo Però ne parliamo Tra 15 giorni Ne parliamo tra 15 giorni Cioè nel senso che Vuol dire Non stasera Stasera Ieri sera ho visto la partita Come l'hanno vista tutti Se devo dare Anch'io il mio Piccolissimo e umile Contributo Se ci deve essere Qualcuno che deve recitare Il mia colpa È certamente l'Inter E non la Juventus Perché la Juventus Sappiamo benissimo Quelle che sono Le sue condizioni Mi fa strano Che poi Il L'amministratore delegato Dell'Inter Marotta Giudichi la Juve Come Favorita dello Scudetto È un Strano gioco delle parti Che voglio dire Poco credibile Però voglio dire L'Inter Poteva dare l'accelerata Non l'ha fatto Hanno deciso La Juve gli stava bene così Cioè voglio dire È condannabile Ma è assolutamente naturale Lo vedremo altre cento volte Sotto questo aspetto Però scusa Gianluca Hai visto che rabbio ieri Ha smascherato il gioco Di Allegri e Giuntoli Perché ha detto Nello Spogliatoio Noi crediamo allo Scudetto Tutti E Allegri ha detto Sì siamo in Spogliatoio Sì siamo in Spogliatoio Credono E come se ci credono E ci mancherebbe Che non ci credano Sono lì Allora Ci dobbiamo fermare Ci dobbiamo fermare Ma riprenderemo il discorso Perché insomma Ce ne sono tante di cose Ancora di cui parlare Di questa sfida Che doveva essere Cioè che è stata la sfida Tra le prime due Del campionato Ma che insomma Io credo che Tutto sommato Possiamo dire Stare una sfida Deludente Molto A tra poco Pubblicità Ben ritrovati amici Di Sette Gold Juve e Inter Lascia ancora Discutere anche in pubblicità Non ci si può stare fermi Un attimo Assolutamente Io lo dico sempre Noi dovremmo fare Le riprese Di quello che succede Durante la pubblicità Perché c'è un altro processo Ancora addirittura Sì Comunque andiamo da Marcello Perché io ancora Non ho capito Perché di Borrelli Gli era fatta la domanda Ma io non ho capito Se Marcello È soddisfatto Oppure dice Beh insomma Ho capito che Tutto sommato Questa Juventus Oltre un certo limite Non può andare Sì Io sono soddisfatto Anche se Non mi è piaciuto Io sono d'accordo Quando Paolo dice Che non c'è stato spettacolo Ma io sono abituato Da anni A tutto questo Quindi mi devo accontentare Ho un allenatore Risultatista Un allenatore Che a fine partita Ha ammesso Pubblicamente Che quello era il risultato Che voleva E l'ho tenuto La Juve Ancora in corsa Di questo mi devo accontentare Io non posso pensare Di avere una Juve spaziale Che gioca bene E vince lo Scudetto Questa è una Juve Operaia Una Juve Che ha pochi giocatori Cosa facevamo I conti I giorni scorsi Quanti giocatori della Juve Giocherebbero in questa Inter Però è riuscita Comunque a non far vincere l'Inter Io voglio capire questo Lo voglio dare da Paolo Che è stato il più critico Di tutti In i confronti della Juventus Adesso poniamo È vero che sul calcio Non si può porre in anticipo Però ipotizziamo Una cosa possibile Che l'Inter pareggi a Napoli Diciamo Mettiamo un risultato possibile E la Juventus Batta il Monza Noi siamo con Allegri Gli diciamo le stesse cose Che gli diremmo oggi Dopo il pareggio Oppure primo in classifica Cambia tutto Ma per come la penso io A livello di proposta calcistica Direi sempre le stesse cose Devo dirti che non è che poi Allegri fa proprio Tutte le partite uguali Cioè soprattutto Ad inizio stagione Qualcosa per esempio Prima delle quattro sberle Del Sassuolo Qualcosa si intravedeva Anche il primo tempo ieri Una proposta di pressi maggiore Quindi io a livello filosofico Direi le stesse cose Poi se addirittura Arriva a fare il sorpasso Per un incrocio di risultati Buon per lui Ti dico che Chi difende Allegri Ti racconta questo Un po' per dovere di ruolo Un po' perché magari È anche allegriano Non lo so Cioè Che con questa Juve Mi è stato detto Ma non al bar Da uno Devi giocare così Perché io ho fatto una domanda Ma Spalletti Con questa squadra Come giocherebbe meglio Quindi sto dicendo una cosa Di scolpa di Allegri Mi è stato detto Probabilmente un pochettino sì Ma Probabilmente Non avrebbe Questi punti Ne avrebbe un po' meno Io dico ma come mai Stanno parlando di Spalletti Dice perché questa è una squadra Che ha dei valori tecnici Limitatissimi Ha una squadra molto fisica Però dice come fai a fare Quel tipo di calcio lì Con gente Con così pochi valori tecnici No? Come McKenny Eccetera eccetera Il dramma è che È stata tanta Questa squadra Ha dei pochi valori tecnici È stata tanta Paolo Questa squadra Ha dei pochi valori tecnici Perché sono stati commessi degli errori Perché hanno preso dei giocatori Strapagandoli e sbagliando Il problema è che esatto Marcello guarda Ti faccio una domanda Marcello entriamo un secondo Ad analizzare Dei singoli calciatori Io ti faccio un attimino L'esempio di un Bremer Bremer ieri Come l'hai trovato Intanto E seconda cosa Nicolussi Caviglia Ovvero Hai notato che Scesni Durante il rinvi Non dava mai palla Appunto al ragazzo Cioè hai notato qualcosa di strano In tutto ciò Sia tra Bremer Che Nicolussi Caviglia Bremer Bremer non mi è dispiaciuto Al di là dell'azione del gol Dove è stato preso in velocità Ma lì è stato fatto un errore Proprio da parte di tutta la squadra Per non parlare di Gatti Che fa l'errore peggiore Con Lautaro Però Bremer In generale Non mi è dispiaciuto Ieri In una partita Dove nessuno ha fatto chissà che Non fa l'errore Gatti Non fa l'errore Gatti Ecco infatti Volevo arrivare proprio a questo poi Ma Gatti Non lo fa l'errore Gatti Come taglia lì in mezzo Come va a prendere quei palloni Quelli sono i classici palloni Che Lautaro prende E mette in diagonale Bremer non deve far crossare Tu i rampi Così facilmente Sì vabbè Ma lì è stato l'unico errore Che ha commesso la difesa È stata presa in contropiede E lì hanno commesso Ma Bremer c'era su Tu i rampi In generale In generale Bremer Non mi è dispiaciuto Ecco Cioè peggio Gatti in tutta la partita Di Bremer Cioè se devo dare Gatti Nicolussi Sono stati peggiori Anche Meccan Nicolussi Nicolussi mi ha molto deluso Però la cosa che ha notato Marianna Non è solo di Cesni Ma anche gli altri compagni Non gli passavano Sì ho preso Cesni In considerazione Solo perché nel momento In cui c'era l'invio Quindi la partenza Dell'azione della Juventus La palla non arrivava mai A lui No ma io infatti Ti faccio notare Che hai notato Una cosa giusta Hai notato una cosa Però io l'ho notato Anche da parte degli altri No ma lui Tant'è vero Tant'è vero Che quando è entrato Locatelli La palla Gliela andavano subito Sì ma lui era anche timido Lui non andava incontro alla palla Io lo vedevo da lì Dal vivo Mi ha deluso Mi ha deluso Devo dire che Avete sentito Sì Avete sentito una voce No no Ho fatto una domanda Buonasera Buonasera Luciano Moggi Benvenuto A chi la davano la palla Beh la davano tutti Meno che a Nicolussi La davano a nessuno La davano a nessuno Non la volevano Non la volevano Non la volevano la palla La sviavano completamente Ma tu Pensavano già difendosi Sembra uno scherzo No Non è uno scherzo Attenzione Perché questa è stata Una partita strana Ha vinto il Fredoli Quando I due gol Sono venuti per errori Dei difensori Sia quello dell'Inter Che quello della Juventus Dopodiché poi Si sono messi a giocare A centro campo Facendo un gran possesso All'Inter Per frenare Le velleità E stare al centro campo Il fatto che i portieri Abbiano fatto Due parate No due parate Abbiano preso due gol Su due tiri In porta Soltanto in una partita Il fatto che ci sia stato Un calcio d'angolo Un solo calcio d'angolo È vero Vi dice tutto Della partita Lasciamo stare Parliamo di altre cose E cioè di che parleresti Se parliamo della partita di ieri È negativa in tutti i sensi Sia da parte dell'Inter C'era una squadra C'era una squadra Che doveva difendere Il primato L'Inter E un'altra Che voleva conquistarlo Hanno fatto in modo Che rimanessero Praticamente Per paura Attenzione Per paura dell'Inter Di perdere Il primato In classifica Per La voglia della Juventus Non soffragata dal gioco Non soffragata dal gioco Per poter Andare a conquistare Il primato Queste sono le cose Che hanno detto Questa partita Il resto Diciamo Diciamo che l'Inter Si è un po' sforzata Perché l'Inter Sa fare calcio E quindi si è un po' trattenuta Ma la Juve Non ha fatto fatica A non giocare Questo lo dici tu Beh Che l'Inter faccia calcio Non è che lo dico io Basta l'idea L'Inter ha fatto il 60% L'Inter ha fatto il 60% Di possesso Paglia Mettendo Mettendo Il gioco A centro campo Ma quella è una difesa Attenzione Sì No ma non ho capito Se tu hai i piedi buoni Per tenere la palla Il 60% Centro campo Vuol dire che c'è piedi sensibili Più degli altri Ma io cosa ho detto Io ho detto Che l'Inter Si è sforzata Ha voluto Non spingere Perché sa giocare a calcio La Juve non ha fatto Quindi però è più colpevole L'Inter secondo te Ma Più colpevole Di non aver provato A vincere Sicuramente Però Paolo voglio venire Un attimo dalla tua parte Su un argomento Che secondo me Tutti Secondo me Esagerano Su questa cosa Che la Juventus Ha sbagliato gli acquisti Negli anni È vero Ha fatto delle scelte sbagliate Questo è sotto gli occhi Però nella Juve della Rosa Di adesso Cioè esageriamo Nel volerla sminuire troppo Perché Ma dimmi quanti ne compreresti Te lo dico Te lo dico Te lo dico Anche questo volevo dire Scusa Paolo Famiglia Se no non si capisce No Allora alcuni giocatori Mi chiedono Aspetta Ti aggiungo una cosa Poi vai Però ma sono d'accordo Con te Sto dicendo una cosa Per avvalorare il tuo discorso Ho iniziato un discorso Non si capisce Quello che sto dicendo Ma io non ho detto quello No ma non si capisce Quello che sto dicendo Se non mi fai finire Aspetta Allora io sto dicendo Che la Juventus Ha dei giocatori Che l'Inter voleva Uno è Bremer Un altro era Vlaovic Un altro poteva essere Negli anni scorsi Chiesa No fermati Un altro era Kostic Un altro era Cambiasso No fermati un attimo Locatelli è stato pure Segundo me Michele Michele Certo Non esageriamo Nello sminuire I valori tecnici Ma no ma fermati un attimo Un conto è volere Un giocatore In una squadra di calcio Con delle caratteristiche E un conto Volere un'altra squadra Perché sono due giocatori Diversi Capisci Tu nella Juventus Puoi giocare in un modo Nell'interno Però vogliono far passare Che la Juventus Sia una squadra Di metà classifica Che per miracolo Si trova là No no Assolutamente no La Juventus È un blocco solido Che praticamente Fa un gioco E i giocatori Che stanno nella Juventus Sono adatti al gioco Che fa la Juventus Ma hanno anche 5 punti a disposizione Alleri ha 5 punti a disposizione Cioè è molto fisica No è molto forte fisicamente Ma non è tecnica No Non è tecnica Però Paolo ha 5 punti Però la Juventus C'è un pregio Sa far giocare male Gli avversari E questo credo E Ildiz anche Marcello Ildiz Che è un giocatore Molto promettente Allora Noi Rifletiamo un attimino Andiamo in pubblicità Torniamo tra pochissime Federico Bertone Bologna Torino Negli spogliatoi Sì È finito il primo tempo 0-0 Non un bel primo tempo Onestamente C'è stata giusto Quell'emozione lì Quella del gol annullato Vlasic Devo dire però Sono un po' sorpreso Perché il Bologna Era in grande condizione Quindi mi aspettavo Che spingesse di più Secondo me è meglio Toro In questo primo tempo Assolutamente Il Toro ha fatto un gol Annullato Ha avuto un altro paio Di situazioni interessanti Dietro sta chiudendo Benissimo Quindi vediamo Se va avanti così Però l'andazzo In questo momento Della partita È che il Toro Meriterebbe più del Bologna In una gara Complessivamente però Da pareggio Diciamo Mi rincuori in parte Mettiamolo così Ma io l'ho detto apposta Grazie Grazie Immaginavo Michele volevo solo Chiederti una cosa Abbiamo parlato appunto Di due soggetti Della Juventus Dunfris Al di là dell'errore Che ha Diciamo Portato poi Al Il vantaggio della Juve Come l'hai visto Complessivamente? Non l'ho visto bene Ma Dunfris Ha una caratteristica Fondamentale La sua forza E il fisico La potenza Straripante Ha fatto un inizio di stagione Ad altissimo livello L'anno scorso Ebbe un calo Quando tornò dal mondiale Non stava bene Adesso È stanco No no Non sta proprio Ha avuto un piccolo affaticamento Poi ha dovuto giocare per forza Perché mancava quadrato E Darmian doveva giocare per forza dietro Con l'Olanda Ha fatto la prima partita La seconda non l'ha fatta Perché non era al 100% Ieri uguale Allora quando Dunfris Non è al 100% Rischia di fare danni Perché deve giocarla Tecnicamente Ieri ha fatto Quell'errore sul gol Anche Anche la marcatura di Vlaovic È stato un po' troppo Parli di De Vrai quindi In quell'occasione Sta facendo una grande stagione De Vrai Però ieri doveva stare Più vicino Più attaccato Esatto Però Vlaovic È andato a togliere La palla Dunfris E' fuori dubbio E' fuori dubbio Ma infatti ieri si è visto Anche l'ingresso di Quadrat Le colpe ai difensori Ho sentito anche Luciano Ho sentito anche Luciano Che saluto Che non vedo da un po' Ciao Luciano Ciao Perché Vlaovic Ha fatto un grande gesto tecnico A centrocampo Se l'è costruito il gol E l'ha chiuso Lautaro ha fatto un movimento Che Gatti è impazzito Ma bravo Lautaro Perché continuano a dire Che è colpa dei difensori Perché una volta tanto Non diamo merito A due grandi gol Che sono le uniche due gemme Della partita grigia Il problema di fondo Per esempio L'errore che è stato fatto Praticamente nel gol Dell'Inter È stato più Di Rugani Che non di altro Su Barella Che ha spalancato la porta Al gol dell'Inter E bisogna guardare le partite Però anche Bremer Si è fatto girare il gioco Ma è fuori dubbio Ma tutti hanno fatto il pressing Uno alla volta Come non si fa Il problema però finale L'ha fatto Rugani Che andando su Barella Ha spalancato proprio La porta dell'Inter Gatti 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 ha fatto una partita Imbarazzante Quando era lontano Dalla sua area Avete visto quella scena Ad un certo punto Si lancia la palla avanti Nel secondo tempo Inciampa Ma dipende dagli avversari Che si incontrano Per esempio anche Di Marco Come ha giocato ieri Si discreto Ma c'era un avversario L'Inter sugli esterni Come diceva Mariana Ieri è entrato Quadrato E ha fatto molto meglio Dei due che sono partiti Si è vero Perché aveva un po' di più Aveva un po' di più Lo spunto Allora Quadrato Sa giocare a pallone Sa saltare l'uomo E mette in difficoltà Tutti quanti con quello Poi è stato esaltato dal pubblico Molto molto esaltato Secondo me Secondo me Quadrato Non ha più gamba Cioè andrà al 30% No è certo Ma altrimenti Sarebbe stata la luce Però Nei 20 minuti O 30 minuti E con Quadrato Bisogna stare attenti Perché è uno Che tira in porta Si sa tirare in porta Abbastanza bene Una partita 90 minuti Sicuramente non ce la fa No infatti ricordiamoci Che complessivamente Ha giocato 35 minuti Più ieri Bisogna vedere un attimino Se Avendo continuità Lo vedremo con tempo Risulterà in effetti Un giocatore carico Per chiedergli Allora Vorrei chiedere alla regia Di mandare Se è possibile La classifica Per farla vedere A Marcello E naturalmente A tutti gli altri E anche ai nostri Degli spettatori Allora Se noi vediamo La colonnina di qua Che parte dall'Inter Secondo te I valori Sono quelli Che potevamo Diciamo Presumere All'inizio Della stagione No Anche adesso Con Mazzarri Prima partita Comunque Rimasta una squadra Forza Sono giocatori Che possono decidere Le partite Quindi la vera delusione È Napoli Più del Milan Più del Milan Perché quando cambi Una guida Praticamente diventa Il problema Poi se specialmente Quello che viene Si vuole esaltare In maniera diversa Certo Vuole cambiare qualcosa Avete visto Mazzarri Mazzarri ha preso Ha rimesso tutto a posto Per quello che poteva mettere Ha vinto Senza dare spettacolo A Bergamo Però ha vinto Ed è rientrato Simen Che è stato L'artefice della vittoria Con il passaggio Che ha fatto E questa è una cosa Che potrebbe esaltare Ma il Napoli vero Il Napoli vero Secondo me Non si potrà vedere più E comunque Si saprà qualcosa Di meglio Dopo La partita con Real Madrid Di martedì Inter e Juve La partita Dell'Inter A Napoli Io non sarei sorpreso Di un risultato Del Napoli Con Real Madrid Perché Real Madrid Quando è qualificato Quando non è importante Delle volte Si distrae un po' Ma ci sta anche questo Si distrae un po' Ma vedi Tu quando vedi La gente motivata Capisci subito Ecco Ritornando Al discorso della Juve Per esempio Poi vedete Gente che prima L'anno passato Non era Motivata Adesso L'avversario Questo l'ha detto Anche Mazzarri A proposito Del Napoli L'ha detto Mazzarri L'altro ieri Ha detto Che era quasi inevitabile Che l'anno dopo Uno scudetto Vinto così Ci fosse un minimo Di Gianluca Hai sentito Che ha detto Luciano Non si rivedrà più Quel Napoli Sì Beh Perché non c'è più Spalletti Non c'è più Spalletti Era un meccanismo Perfetto Non c'è più Anche giunto Lì Gianluca L'errore di Garzia È stato quello Ah sì Come costruzione Sicuramente Voglio dire Anche perché il Napoli In questo momento Non ha un management Diciamo così Di esperienza Si è affidato Dell'Aurentis A se stesso Innanzitutto Anche nella scelta Dall'allenatore Anche se ha avuto Qualche no Che non si aspettasse E poi anche Nella decisione Del mercato Io dico semplicemente Che L'ha spiegato Luciano Mazzarri Deve fare le cose Semplici In questo momento Cioè è inutile Pensare di trovare Di nuovo Il Napoli Il meccanismo Tutti avanti Tutti indietro Adesso il Napoli Deve ritrovare La sua strada Ha ritrovato Siment Dopo un mese e mezzo E già questo è fondamentale Uomo decisivo E Quaraschelia Cioè tutto quello Che è accaduto a Bergamo Si conclude Con una sola fotografia Con un solo quadro Un solo dipinto Il bacio di Quaraschelia A Mazzarri Un giorgiano Freddo Particolare Eccetera Che si abbraccia E si bacia a Mazzarri Dopo una vittoria È una fotografia Che vale qualsiasi tipo Di commento Per farti capire Proprio come è cambiato Completamente Il vento E la situazione Nella gestione del Napoli Che ha vissuto Un vero e proprio Incubo gestionale Scusa volevo dirti Soprattutto Cioè nel secondo tempo Si è vista un po' L'eredità negativa Di Garzia O di Garziaco La preparazione atletica Evidentemente Lavoravano male Atleticamente La squadra ha avuto Un caldo Certo No no Un momento Un momento Gianluca Quindi lavoravano bene Gianluca In una settimana Tu non puoi modificare L'assetto della preparazione Eh appunto Quello che ho detto Ha lasciato Quella che ha trovato Garzia Scusami Però se tu intervieni E dici la stessa cosa Che ho detto Ho detto la stessa cosa Ma scusami Tu hai lasciato capire No io non ho lasciato capire Niente Io ho detto Che si è vista L'eredità di Garzia Proprio perché Era implicito Che in una settimana Che la squadra Ha avuto un calo fisico Ma l'eredità di Garzia Cioè se intervieni Per dire la stessa cosa Facendo finta Che io dico No la fine esatta L'eredità Eh vabbè E siamo se scherzi a parte Scusami L'eredità di Garzia La intendi in senso negativo E beh ovvio Come ne l'intendi Allora E invece lui Ha ricevuto La preparazione Ha ricevuto la squadra Con la preparazione di Garzia Evidentemente La preparazione era buona Non era buona Non era buona La preparazione di Garzia Ma che ne sai Tu se era buona Ma se non gli ha neanche dato Ma se non gli ha neanche dato Ah tu invece sai che era buona Cioè era buona Io probabilmente Posso sapere più di te Cioè in Napoli Ma chiedi a Gianluca Ma anche Gianluca Ne sai quanto te Ne sai Ah e tu sai tutte Io ho parlato Ma non lo scherziamo Adesso praticamente Tu sai tutto Lo scibile del calcio Cioè non c'è No io lo scibile Non lo so Non c'è un tema No non c'è un tema Sul quale uno dice una cosa Perché magari fa il giornalista Da 32 anni Professionista Ma tu ce l'ha sempre Lo so con gli scordi No perché E io ho fatto il dirigente Da 40 anni Allora Va bene Però Però Se vogliamo essere precisi Inizialmente No però Se vogliamo essere precisi Sembrava Però poi Perché mi metti Nella condizione di dire cose Tu hai fatto il dirigente E sei stato il dirigente E sei stato il dirigente Il miglior dirigente Che sei stato in questo paese Però io continuo a fare giornalista Tu non continui a fare dirigente Quindi magari io continuo a informarmi Bravo E tu magari non lo so No perché scusami Hai fatto un bel discorso Ma bello brutto Non lo so Guarda di quello che è successo Guarda di quello che è successo Guarda di quello che è successo E vergognati a dire No ma non puoi intervenire Vergognati a dire No Vergognati tu Perché mi hai Perché il calcio dal 2006 È franato E cosa c'entro io Tu dici che io ho smesso Quando ho smesso io il calcio Praticamente Allora facciamo una cosa Fermiamoci No però Cioè se io faccio un intervento Fermiamoci E poi di fronte Diamo gli altri Io marzo e me ne vado Eh vabbè Io ti centro Dai dai Luciano Ma no Ma senti che discorso Tu continui a fare il dirigente No perché tu voglio dire Io continuo a fare l'opinionista E posso sapere più di te Appunto Ragazzi andiamo Paolo Paolo Bassa Allora Io penso Cercate di No Cercate di Riprocificarmi In pubblicità Hai fatto un intervento Improprio Paolo Bassa Stavo dicendo No No Io ho fatto l'intervento giusto Perché tu le rendite Non hai fatto un intervento Non la potete pensare Di versare Ma è ovvio O si capisce Ma è ovvio Ragazzi Noi ci fermiamo Ci fermiamo Allora abbiamo cercato Di calmare un pochino le acque E così Anzi Diamo il risultato del sondaggio Quello riguardante L'Inter Quindi l'Inter Occasione persa Sì o no Il 54% di voi Ha votato per il sì E il 46% Però molto equilibrata Quindi vuol dire che Insomma tutto sommato Ha molti risultati Sia da una parte Che dall'altra Tutto sommato Stava Stava bene Anche nel sondaggio Non hanno voluto rischiare Stavo per dire Ma lo sapete che l'Inter Ha un complesso Insomma In questa trasferta Perché ha vinto Nel 63 Nel 73 Nell'83 A Tavolino Nel 93 Nel 2003 Nel 2012 Dice nel 2022 Cioè vince una volta Ogni dieci anni A Torino E la trasferta Più proprio storia Allora E anche la squadra Che insomma Nella storia Del calcio italiano Cioè i risultati Sì ma a San Siro Questa cosa non succede Mentre quando vai in casa Della Juventus E poi l'anno scorso Ripeto Aveva perso Ha vinto anche a San Siro Ha vinto anche a San Siro La Juve No ha vinto anche a San Siro Ma se vai a vedere L'Inter ha vinto più Della Juve a San Siro Mentre a Torino Sì però Il punto è che tu Hai incontrato La Juve In questo momento A Torino È più debole di te Eppure non ti ha fatto vincere Che pure non ti ha fatto vincere No ma più che non ti ha fatto vincere Come abbiamo detto prima Nel secondo tempo Quando l'Inter La Juve è un po' calata E l'Inter ha potuto Diciamo un po' più Comandare il gioco È stata molto Attenta a non scoprirsi L'Inter Ecco il primo obiettivo Era Molto timorosa E questo non è sempre bellissimo Per ricominciare la partita No però I campionati si vincono pure così Si è conosciata da sette minuti La ripresa Finora Insomma Prosegue Sulla stessa China del primo tempo Non ci sono Particolari emozioni Io ho la sensazione Che questa partita Sia molto bloccata E che solo un episodio La possa aprire Dopodiché magari Vediamo un finale Completamente diverso Ma al momento Siamo sempre un po' Al discorso già Di Juve-Inter Più in piccolo Semioscena E inguardabile Come quella di ieri Avanti tutta Diciamo che Il tatticismo La sta facendo Però ecco Per esempio Tiago Motta L'abbiamo elogiato Tante volte Quest'anno Poi non ha Diciamo un attacco Che segna tanto Allora se non la sblocchi Yuri c'è uno Che ti gioca molto E' molto E' molto su Zirkze Sai secondo me Anche al di là Sicuramente Che c'era una volontà O c'era un inconscio Dell'Inter Di non affondare Però siccome l'Inter Poggia Buona parte Del suo gioco Sugli esterni Non aveva gli esterni In forma Non erano in condizione Perché Dunfris Sbagliava la qualunque Di Marco Secondo me Era anche provato Dall'impegno Con la nazionale L'asse sinistra Dell'Inter E bastoni di Marco Invece a Serbia Ha dovuto giocare a sinistra E quindi di Marco Non aveva L'uomo solito Poi magari non era brillantissimo Non era brillantissimo Poi quando ha messo Quadrado Quadrado Per la condizione fisica Poteva fare più contenimento Che fare superiorità Ma poi l'Italia Come ha detto Inzaghi Alla vigilia Ha avuto delle partite Da dentro o fuori E sia Chiesa che Barella Che stavano benissimo In Italia e Ucraina Ieri nel secondo tempo Si è un po' sentito Anche un po' L'impegno che hanno avuto Perché poi noi parliamo Sempre di tutte queste partite Che si giocano Gli impegni ravvicinati Hanno delle conseguenze Tutte le partite Io adesso ci arrivo con Luciano Sulla nazionale Ma prima voglio Come no Io per educazione Non me ne vado Ma ascolto voi No vabbè Ma dai No 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 Assolutamente Guarda Quando si va nel personale Non va bene Allora Ugo Allora Stavamo Hai ascoltato pazientemente Ma Ti ho sentito A un certo punto Ma al Milan Mancavano otto giocatori Eccetera Adesso il Milan Ha avuto un allenatore Che ha deciso Di cambiare qualcosa Ha cambiato Qualche candela Qualche pezzo Del carburatore Perché È un maniaco Come tutti i francesi Del mondo Non ce l'abbiano Con me i francesi Per l'amor del cielo Però Però Hai capito Ha rovinato Un giocattolo Che se mi mettevo Io alla guida Vincevo Vincevo tutto Tranquillamente Un'altra volta Invece È arrivato uno Che ha voluto Metterci le mani Tecnicamente Non credo fisicamente E il Napoli È crollato Il Milan È terzo in classifica Ma ha cambiato Otto giocatori Che ancora oggi Non si sa Da che parte arrivano O almeno Si sa da che parte arrivano Ma non si Questa vedi scusa Questa era Di chi Lo dava Gli algoritmi Di Furlani Qui c'era qualcuno Che lo dava Era il calcio moderno Guarda che fine Fa il calcio moderno E' vero Io Per cui Tu eri quello Allora Allora Non c'è allora Allora Dicevo questo Scusate ma io Non ho finito Allora facciamo Adesso ci arriviamo Facciamo finire Quando parlano voi Vai Attenzione Bologna in vantaggio L'errore del toro Insegna Fabian Il ragazzino Di scuola interno Inter Che ha una recompra Per il 2025 Numero 80 Al minuto 57 La sblocca il Bologna Dicevamo un episodio Ed è esattamente Quello che è accaduto Adesso Lo andiamo a rivedere Con calma Mentre ci mostrano La panchina del Bologna Che fa festa Federico Commentami la classifica Perché cosa cambia Cambia tanto Cambia tanto Te lo dicevo già In fase di presentazione Se il Bologna Vince stasera Aggancia la Roma Va a meno 3 dal Napoli Meno 4 dal Milan Cioè dobbiamo iniziare A parlare di un Bologna Che lotta per l'Europa Buco della difesa del toro Uscita sinceramente Senza criterio di gemello Che oggi è stato preferito A Milinko Vissavic Esattamente Per probabilmente Un battibecco con Iuric Qualche problema interno Qui fa un'uscita Assurda gemello Va nella terra di nessuno Fabian Gli prende il tempo Poi è anche fortunato Perché vince il rimpallo E a porta vuota Appoggia in rete Bologna 1 Torino 0 Allora Ritorno da Ugo Che finisce Prima di andare Un attimo La Luciano Che ci stava parlando Degli algoritmi Tornando Al discorso di prima Una squadra del Milan E terza in classifica Nonostante Abbia cambiato tantissimo Abbia perso Il 50% Di un settore del campo Che era determinante Che era il centrocampo Con Tonali E Benasser Per cui Sta già Secondo me È un miracolo Che sia lì Ha capito Perché è vero Che ha avuto Una partenza Una partenza buona Poi però Ha avuto dei cali Pazzeschi Durante il resto Il problema Del Milan Cioè Luciano Io capisco Giustamente Lui Ha una visione Di un calcio Più tradizionalista E quindi Io mi ricordo Più tradizionalista Ma io mi ricordo Ma adesso Ma adesso Scusa Adesso Scusa Tradizionalista Non è un No ma Volevo dire Dunque Dunque Il calcio Che volevo io Che mi piaceva Che piaceva a me Era quello Di dare i giocatori A nazionali Di vincere le partite Ma quello è ovvio E di vincere i campionati del mondo Con la nazionale Tant'è che ora Vedi con questo calcio qui Bisogna richiamare Quelli a 35-40 anni Che erano bravi un tempo E per rivederli giocare Un pochino meglio Si fanno venire Quello è ovvio Però 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 Come tu sai Avevi una proprietà diversa Tu se hai una proprietà Che è un fondo di investimento Che ha altre priorità Magari Quello che facevi tu Non te lo faceva A te Non lo fa fare Al dirigente Però sbaglia Paolo Se non lo fa fare Inter e Juve Sono in testa Non per caso Perché il Napoli E il Milan Si sono suicidati Con alcune scelte pazzesche Sì no Ma voglio dire questo Aspetta aspetta Marcello Perché è più forte Eh ma perché è strutturata Con una dirigenza tradizionale Sì Ma quello è vero Però io dico Guarda che il Milan Cioè per rispondere anche a Ugo È opinabile Questa rivoluzione Che hanno fatto Però lì il problema Delle ali semitarpate È che sono pieni di infortuni Sono gli infortuni E questo non c'entra Luciano Questo è un altro discorso Capito però Paolo Non dì di massare Non l'hanno giustificato Sì ma chi fa infortunare I giocatori No guarda È diverso La preparazione atletica È diverso la cosa Perché al Mila Manca in questo momento Sia Tonali Che Benassè Benassè per infortunio Può mancare pure che sì Scusami Perché gli manca Che è partito l'anno prima Sì no A prescindere Gli manca quel qualcosa Centrocampo Che diceva lui Rinnovato Rinnovato no Anche perché questi qui Scelti da Furlani Sono tutti piedi discreti Tutti buoni Con uno in particolare Che è il migliore Che si infortuna sempre In maniera muscolare Voi l'avete visto E lo continuerete a vedere Il centrocampo del Mila Soffre proprio Della mancanza Della forza atletica Di Tonali E della mancanza Della qualità Dei piedi Di Benassè Questo è quello che Quindi il problema Di fondo Del Mila È proprio La mancanza Di un centrocampo Articolato Vabbè ma Luciano Comunque L'hanno cambiato Non è un centrocampo Che non ha forza È una squadra Che non ha giocatori Perché infortunati Perché l'Octus Cic e Musa C'hanno forza L'Octus Cic Allenatore E dei suoi preparatori Atletici Perché troppi infortuni Muscolari E questo l'ha sottolineato Purtroppo Allora io ti faccio Siamo tutti d'accordo Non ci dobbiamo fermare Poi sai che facciamo Le squadre non si fanno così Andiamo a studiarci Il Milan Andiamo a studiarci Il Milan Che affronta Il Borussia Non lavorano Non io parlo Quando Calabria È partito con una polemica C'è qualcosa Negli spogliatori Che non funziona È lì Perché questi qua Non lavorano E ti fai male I muscoli Se tu non lavori Se lavori tanto O lavori male O lavori male Le preparazioni tecniche L'atletica La sono veramente Tanto desiderare È più facile Che lavorino male Esatto O male o poco Non lo so Allora Ci dobbiamo fermare È un discorso Che insomma Che interessa Quindi lo continueremo Immediatamente dopo Anche perché Dobbiamo sentire Pioli Dobbiamo capire Come il Milan Affronterà la partita Più importante Della Champions League E poi naturalmente Sentiremo anche questi Argomenti che sono stati Messi sul tavolo Era con tanti capelli Ed è scammato Ero vicino a te Ero vicino a te Prima Alle caldare Sì esatto Perché sono invecchiata Marcello per quello Che vedi L'età avanza anche per me Comunque Sto facendo questo particolare Vediamo Covertone Moviola Andiamo a vedere un po' Di Moviola Allora ce n'è tanta Da questo contrasto Da questo contrasto tra Darmian e Chiesa Dopodiché l'azione va avanti E l'Inter pareggia Da qui l'idea è quella Di un colpo sul volto Ma invece Vedendo il replay Dall'altra parte del campo Vediamo che Darmian Non sfiora neanche Il volto di Chiesa Gli mette praticamente Un braccio Qui sul Sul petto Guadagna la E sinceramente per me Questo non è fallo Cioè rivedendolo così Questo è un contatto Di gioco No È una cosa Che ha lasciato perdere Ben più grave di questa Ha lasciato perdere L'arbitro Ma questa è una Che ha arbitrato Proprio in una maniera Esatto Da far giocare Alla sozza Cioè nell'inquadratura Quella Diciamo live Chiaramente il dubbio Ti rimane Perché non si vede bene Però si intuisce Questa inquadratura Invece che stiamo vedendo ora Secondo me I dubbi li toglie tutti Tutta la polemica Federico nasce Perché hanno fatto vedere Una foto Un fotogramma Perché la foto Ti può dare un messaggio Sbagliato Però questa Secondo me Viene prima della foto Ma la foto Era quella che sembrava Che gli mettesse La gomitata Addirittura sul volto Che non esiste Ma sentiamo Sentiamo Tanta la sappiamo Borrelli Non ci siete di mezzo voi Non ci siete di mezzo voi Quindi non vale mai Quindi non ha nato Sul gomito Non ha fatto Per me Gomito pizzicotto Tirata dei capelli Fammi parlare Qui è fallo Qui è fallo E lo fa volare Per terra Qui è fallo Poi se vogliamo Cambiare tutti i regolamenti Perché tanto Interessa la Juve Non c'è l'intervista Io avrei ammonito Chiesa Per simulazione Senti Ugo Senti Ugo Qui diciamo Che c'è un plebiscito Per il non fallo Però sentiamo Un po' tutti Ugo Tu dirai Secondo me Non gli ha dato La gomitata in faccia C'è stato uno scontro Chiesa ha fatto la scena Convinto di essere Ma che scena Comunque Comunque Guarda Non ha fatto nessuna scena Tutti quelli della Juve Non ha fatto Nemmeno proteste Perché non c'è Fallo Non ha fatto I scena No no Neppure proteste La vostra obiettività È raso terra Però era un fallo Effettivamente da Ma guardando la partita Per come l'ha arbitrata È una cosa normale E nel contesto Infatti Io sono d'accordo Con Luciano Perché Luciano l'ha arbitrata male Infatti guida L'ha arbitrata male L'ha arbitrata male Perché ha lasciato Correre su tantissimi falli E ha preso Delle decisioni Anche molto sbilanciate Poi Al di là Che per me È giusto il pari È finito All'Inter Se non segnava Però io Gli davo fallo Questo è un fallo Però Marcello Bisogna riconoscere Anche un'altra cosa Guardare Nell'intera partita Diciamo E si vede l'arbitro Che fa passare I falli A me guida Non è piaciuto Mi ha fatti passare Tantissimi di questi falli Vai Maurizio Io volevo dire questo A me guida Non è piaciuto Due cose Una regolamentare E l'altra Adesso Ognuno può avere La sua interpretazione Se questa è fallo O meno Il fatto comunque Che il VAR Non intervenga In primo luogo E perché Peggio ancora Perché non c'è Ovviamente La certezza Qui siamo in tanti Studio Stiamo dicendo Quasi tutti Che non è fallo Ma Marcello Dice una cosa Una volta che l'Inter Si impossessa Della palla L'azione muore Sul portiere Esatto Quindi nel momento Che è morta Sul portiere Per regolamento Il VAR non interviene più Perché viene considerata Una nuova azione Però se c'è un gol Ma il VAR quando l'arbitro Non vede Possono volendo tornare L'arbitro ha visto L'arbitro ha visto E' rimasto la decisione Dell'arbitro E' ha giudicato male Ma quale è giudicato male Ma solo per te Marcello Ha giudicato male Ma sì Ma è normale Giuliano Ronaldo Ne parliamo per 40 anni Ah uguale proprio E' uguale E' uguale Ma invece Paolo Che dici Ma andiamo avanti Tanto l'ho capito Ma Darmiano ha preso la palla Giuliano prende Ronaldo Ma come fai a paragonare Giuliano Ronaldo con questo No Darmiano non è che prende la palla Darmiano gli appoggia un braccio Però non sul volto E non al punto Ho capito Ma dopo guadagna la posizione Si trefrappone Tra chiesa e il pallone Giuliano No impedisce a Ronaldo di passare No vabbè ma quello è un altro episodio E allora Volevo sentire Paolo Dai che non ha ancora parlato Sulla Moviola Per me è fallo di Darmiano Per te è fallo Attenzione Punto Per me è fallo Non eravamo già Tutto lo studio Perché praticamente Gli Cioè E vedi Gli taglia la strada Ha detto banalmente Non in un linguaggio tecnico E lo fa cadere Ovviamente Ovviamente non gli dà Nessuna gomitata in faccia Però comunque gli entra Anche a livello di Anca Anche Noi Ci siamo più portati a guardare La parte sopra Ma guarda A livello di Baccino Sì ma la palla Anche di braccia Anche di Ganti È un contrasto dove guadagna la posizione Darmiano Eh no Non è che parola Sì guadagna la posizione Va bene Guadagna la posizione Poi io sono d'accordo Rifacciamo i regolamenti Rifacciamo i regolamenti Rifacciamo i regolamenti Così tutta la partita Così tutta la partita Cioè con coerenza Ha lasciato giocare Si può dire voi che venite di più Alla Orsato? Sì Eh Arbitrato all'Orsato Si può dire Alla Orsato Alla Orsato Quegli arbitri diciamo un po' L'inglese Come si diceva Ovviamente Ovviamente È facile È facile poter dire Che potrebbe essere fallo Nel secondo tempo Però Vedendo l'arbitraggio generale Che lo spinge E non gli da fallo La stessa spinta Fatta da Gatti Su un giocatore Insieme a su Quadrado Ok ok Adesso non è che Ma è impossibile azzeccare Tutto in una partita Però diciamo Negli episodi Gianluca tu che dici Era fallo anche per te Oppure no Eh io non lo considero No non lo considero Fallo E ti aggiungo Proprio Proprio per il metodo Di valutazione albiterale Sono d'accordo con Paolo Che ha equiparato Questa direzione Un po' all'Orsato Eh se tu vedi Chiesa Ma è un po' naturale In Chiesa Eh quello di cercare Di acuire un po' Il contatto O Chiesa O qualsiasi altro giocatore Perché Chiesa Eh Siccome Paolo ha parlato Della dell'ancata Però se voi vedete La gamba di Chiesa Chiesa va a cercare Con la gamba Il contatto La palla Aveva gestiva la palla Cosa doveva fare Chiesa La palla c'era Chiesa La palla c'era Chiesa Cosa doveva fare L'altro gli arriva A 300 all'ora addosso Cosa doveva fare Chiesa Con la gamba Secondo te Io non lo considero fallo Eh vabbè Eh vabbè Comunque per me non è fallo Non è un fallo Un episodio più o meno facsimile In chiave contraria In chiave contraria Su Acerbi Quindi anche in quel caso Per dire non aveva fischiato E tutto quanto Quindi il metro più o meno di misura Poi che sia giusto Sia sbagliato Però è stato adottato più o meno Per tutto l'arco della partita Però qualcuno ha scritto Che avrebbero dovuto Richiamarla al VAR Perché c'era sta roba del gomito Condotta violenta Invece no assolutamente Invece no Esatto bravo No no Ma fai bene a specificarlo Perché io ho detto sta roba Maurizio prima ha fatto Una giusta precisazione regolamentare Dice inizia una nuova azione In che caso però Io posso intervenire dal VAR Se c'è condotta violenta E certo Se gli dà una gomitata in faccia Io gli posso chiedere i rovi Però la gomitata non c'è Quindi questo non si può fare Ma è come a Salerno Anche a Salerno Non può intervenire il VAR Poi però Lo stesso Rocchi ammette Sì è stato fatto l'errore Però il VAR si è comportato benissimo Vabbè ma hanno sempre ragione loro Tu dici Salernitana a Napoli Quel gol famoso Sì Salernitana Anche lì Comunque poi ne abbiamo altri Di Casacca Non è una questione di Casacca È una questione di Di esaminare Cioè il singolo episodio Perché se no è tutto dietro logico Io la penso esattamente come te Tu cosa hai visto dallo stadio Hai visto la stessa cosa Che ho visto io Un fallo Che ci sia gomito o non gomito Cioè non mi interessa C'è un fallo Sono onesto Qui ho dovuto rivederlo Cioè nel momento in cui Due persone dicono che fallo Poi ce ne sono altre Tre, quattro Che dicono che non è Vuol dire che anche al VAR Non lo puoi vedere Come un chiaro ed evidente errore Ah no Perché il chiaro ed evidente Deve mettere d'accordo tutti Non come un gesto violento Al VAR fanno il sondaggio Fanno il sondaggio online No Credo che Almeno loro Che sono lì dentro Devono essere d'accordo Poi dopo la presenza Noi ci fermiamo Noi ci fermiamo Perché tanto abbiamo Altra moviola Ma ancora un caso in particolare Per quel che riguarda Juventus-Inter Quindi rimanete lì Eccoci di nuovo insieme Amici di Sette Gold Altro episodio Da commentare Per quel che riguarda Inter L'Inter e la Juventus E questa volta forse Ancora più clamoroso Qualcuno dice Allora qualcuno l'ha detto Io credo invece Il resto dell'idea che guida Secondo me è invece arbitrato bene Però Andiamo a vedere anche Questo episodio Quadrado Che entra in maniera Molto carica Elettrica Commette Questo fallo su Kostic Qui qualcuno ha protestato Perché Quadrado Come vedremo tra poco Entra Prima sul pallone Ma poi Tiene il piede un po' alto E qualcuno ha rivisto Un po' la situazione Di quel Monzalecce D'inizio anno Con Baschirotto Quando poi Baschirotto fu Espulso Però Ricordiamoci anche Che Rocchi Cosa disse poi Commentando quell'episodio Che era giallo Disse che era giallo Quindi aveva sbagliato In quel caso L'arbitro di Monzalecce Guarda adesso L'abbiamo ecco Non è alto Non è alto Fede il piede Tocca la palla Esatto E poi va sul piede Di Kostic Però alto Vedi Che però Ma non altissimo Cioè nel senso No No Però A me non è neanche fallo Beh fallo Ma poi lo prende Però ascoltate Kostic salta Salta come un grillo Ma però il giallo ci sta Secondo me il giallo ci sta Il rosso No Il rosso No Diciamo che un po' Il ruento è stato Quadrado Marcello Anche caricato In negativo Dei fischi Perché ieri ogni volta Che tu c'è la palla Ti dico che guarda Qui questa cosa Che mi hai ricordato Hai ricordato anche tu Su Baschirotto Io non avrei espulso Baschirotto in quell'occasione Perché entrava prima Nella stessa maniera Non voglio l'espulsione Di Quadrado In questo caso Quindi vedi Marcello qui dimostra È una cosa da giallo Ma sapete Dimostra grande obiettività Qui Marcello Infatti io ti dico Che Ken Che ha avuto il gol annullato Col Verona Per la manata Io avevo detto Che per me Ken era regolare Quel gol Come Darmian con Chiesa Tu su Chiesa non sei stato Vittimo Ken Ti ricordi Marcello col Verona Avevo detto Che secondo me Quello non era da annullare Come Darmian con Chiesa È sbagliato Ogni tanto qualcosa giusta La dice Perché incida Il giocatore A giocare anche meglio A dare più di quello Che potrebbe Di solito Le squadre di calcio Quando vengono fischiate Danno sempre il maggiore Impulso alla partita Perché sono Anzi stimolate In effetti Quadrado Ma stupito Per come è entrato in campo Non pensavo fosse così I fischi erano di delusione Cioè Quei fischi Sono tutti di delusione Perché loro erano molto attaccati I di Juventini Erano molto attaccati A quadrado Abitava tra l'altro Qui vicino a casa mia Lo incontravo spesso ai giardini Non vi dico Tutte le volte Che a me Lo si incontrava ai giardini Tutti Di ragazzini Cioè Era molto attaccato Anche perché è un bravo ragazzo Ha quadrato Quelle simulazioni Ha preso credito Soprattutto quel rigore Da 50 milioni Nel 2021 Vabbè ma adesso Un tuo giocatore Che vuoi Non puoi Di grado Ovvero un quadrato La Juve lo manda via E lo massacra In difficile Ma si tuffava Anche nel giardino Di casa sua Marcello E teforissimo Ognuno Che non lo vogliono Cos'è Gianluca Cos'è sulla casa di Marcello Ma tu Paolo Continui a non capire Paolo Continui a non capire Continui a portare avanti Ho detto nel giardino Ho detto nel giardino di Marcello Quadrato Ma c'era le prove Non mi hai capito tu Ho fatto la fotografia di Quadrato Ho detto Poveretto Cacciato dalla Juve Fischiato dai tifosi della Juve Ieri Arriva all'Inter Non lo vogliono E ti fossi scendere in pia Ho detto Povero Quadrato Poveretto Non fu accolto male E dopo insomma Che è diventato Non è amato Ragazzi Andiamo avanti Con i prossimi episodi Però Marcello Non so se hai sentito Vigliotti ti ha chiesto Se nel tuo giardino Quadrato faceva Cos'è che hai detto Gianluca? No le prove dei tuffi Che faceva sul giardino di Chirico Inizia Zalaieta con voi A fare i tuffi I tuffatori Avete avuto Qui ci vai indietro Indietro ancora negli anni Va bene